Un ferragosto da vivere in tutta sicurezza, magari tra monti e mari in Abruzzo, nel rispetto delle disposizioni anti-covid. Ieri è arrivato il giorno per eccellenza, simbolo dell'estate, un ferragosto particolare vissuto in piena pandemia. C'è chi non rinuncia alle vacanze fuori regione, seppure tra tamponi e green pass, e chi opta invece per la gita fuori porta godendo delle bellezze della nostra regione. I turisti non mancano, ma anche gli abruzzesi stessi si sentono più sicuri nel trascorrere questa giornata sui nostri monti, laghi o mare. Certo c'è gran lavoro per le forze dell'ordine, per evitare assembramenti pericolosi e anche per i controlli dei green pass. In questo caso in particolare sono previste multe pesanti per chi cerca di fare il furbo. Si tenta di trascorrere il ferragosto in una relativa normalità, con l'appello però a vivere questa relativa normalità col buonsenso. Non si rinuncia al divertimento e al mare o alla tranquillità della montagna o dei laghi, o anche alle sagre e a spettacoli, eventi, concerti e musei, seppure con le dovute limitazioni e precauzioni. Il pensiero va però a chi il ferragosto lo passa con un posto vuoto, lasciato da chi contro il covid ha perso la battaglia. Nella speranza dei vaccini e di prossime cure o vaccinazioni sempre più efficienti, c'è il grazie a tutti coloro che anche in questa giornata di festa si prendono cura dei pazienti del prossimo, che lavorano anche oggi per garantire la sicurezza e l'incolumità degli altri, con l'augurio che il ferragosto torni presto a essere la festa in compagnia, mentre ora gli esperti invitano la prudenza, niente baci e abbracci, rispetto delle distanze, mascherine dove ci siano assembramenti e igienizzazione delle mani. Solo così potremmo sperare di lasciarci alle spalle la pandemia e pian piano riprendere le nostre abitudini e quella normalità che tanto ci manca. Grazie a tutti.